Buongiorno a tutti e benvenuti a una delle nuove interviste di Tecnologie Meccaniche e Tecnolamiera. In particolare ci stiamo avvicinando a grandi passi al convention della lamiera che si svolgerà il 17 di maggio prossimo alla sede del chilometro rosso. Un momento sicuramente importante per il settore che è un momento di avvicinamento anche alla fiera di lamiera che ci sarà nel 2025 e questa convention è nata proprio dall'idea di Tecnologie Meccaniche in collaborazione con Ucimu e con Fondazione Ucimu. Diversi saranno gli argomenti che verranno trattati durante la convention, durante l'evento e uno di questi argomenti è sicuramente quello dell'innovazione con le varie sfumature che l'innovazione può avere. A parlarne oggi siamo con il professor Sergio Terzi che è docente e professore ordinario di Tecnologie Industriali al Politecnico di Milano e che sarà uno dei relatori dell'evento. Buongiorno ingegnere e grazie per la sua disponibilità. Iniziamo subito con la prima domanda. Quali le principali innovazioni dal punto di vista tecnologico devono affrontare le aziende manifatturiere, in particolare quelle meccaniche oggi, per essere più competitive sul mercato? C'è un dominio dell'innovazione e della tecnologia che è quello di tutto il contesto digitale. Mi rendo conto di parlare ad un mercato, ad un contesto tradizionale dell'industria meccanica che già da anni si è modernata, però deve essere chiaro che sempre più, anche contesti tradizionali, sono obbligati a doversi mischiare con altre tecnologie. Quindi un bene produttivo oggi è certamente una risorsa automatizzata e fortemente digitalizzata e questa trasformazione per carità è già avvenuta, altrimenti le nostre aziende sarebbero rimaste fuori dal mercato. Quello che penso che però sia cambiato e che va considerato è che oggi i nostri clienti si aspettano un certo livello di digitalizzazione, non si aspettano banalmente dalle macchine di poter estrarre conoscenza, si aspettano dai sistemi produttivi di poterli gestire in modo diverso. C'è qualcuno che parla di servitizzazione, anche quella è una sorta di innovazione, una categoria dell'innovazione. Certamente questo è un dominio che è spinto dal normale progresso tecnologico, che ripeto le nostre imprese hanno ampiamente già colto, ma oggigiorno è fortemente tirato dagli utenti. Noi come consumatori finali vogliamo avere tutto nelle nostre mani con il nostro cellulare e parimenti, noi stessi come utilizzatori industriali oggi abbiamo questa aspettativa, che non si può quindi non fornire. Questo vuol dire non solo poi avere macchine che possono essere interconnesse, tutti abbiamo sentito questa parola in questi ultimi anni, ma soprattutto penso io, oltre alla famosa interconnessione, dare effettivamente del valore a questa interconnessione, quindi dare al cliente, all'impresa che acquista i nostri impianti, la possibilità davvero di tirare fuori valore dalla conoscenza di quei famosi dati che oggi siamo in grado di fornire ed estrarre. Oltre ad un discorso di innovazione e di tecnologia, chiaramente questi passaggi e queste scelte portano con sé anche un cambio organizzativo all'interno dell'azienda. Ecco, quali anche in questo caso le strade principali da intraprendere per le aziende, perché appunto queste trasformazioni che sono così evidenti siano veramente efficaci all'interno dell'impresa? Penso due cose su questo fronte. Uno, in un contesto come quello che abbiamo in parte descritto, che comunque conosciamo, spinto fortemente dal progresso tecnologico, ma sempre più dalla domanda del mercato, le imprese devono essere in grado di reagirvi, quindi devo dire che devono essere organizzate in un modo sufficientemente flessibile e dico io efficiente, in modo da non perdere il treno. E questo porta con sé tutta una questione di essere organizzati per essere efficienti, anche là dove ad esempio si fa in senso stretto l'innovazione, si progetta, un ufficio tecnico oggigiorno deve essere molto più veloce nel fare i propri sviluppi del passato e per essere veloce la velocità è data da essere più efficiente rispetto al passato. Questo penso che sia tutto un contesto da tenere ampiamente presente. Collegherei anche un secondo aspetto. Prima parlavamo del fatto che dai macchinari è importante estrarre dati, i nostri clienti se ne aspettano per farne qualcosa. E questo qualcosa qualcuno alle imprese lo dovrà dare. E questo vuol dire che la nostra tradizionale impresa meccanica oggigiorno ha bisogno di competenze e discipline che una volta non ero abituato a presidiare. Chiamateli esperti di dati, data analytics, data scientists, come volete, che poi sono attività che quasi tutti gli ingegneri sono in grado di fare. È questione di metodologie, di analisi ampiamente studiate e codificate, però bisogna lasciare lo spazio e il tempo per fare queste famose data analysis. Con noi penso che in generale non sempre siamo pronti a farci tirare dei dati, anche perché per anni è stato complicato averli, quindi l'esperienza umana era in passato certamente la sorgente più rapida per risolvere i problemi nel momento in cui è l'esperienza, ovviamente le competenze. Oggi abbiamo comunque oggettivamente strumenti e capacità di calcolo che una volta non c'erano. Bisogna ricordarsi di volerli usare. C'è qualcuno che dice che bisogna credere nei dati, no? Adesso la credenza lo lascio da peraltro, però penso che questa sia una competenza che dobbiamo fare nostra. Ed è una questione, anche questa, di organizzazione. Un altro sicuramente degli argomenti, lei l'ha sottolineato più volte nelle due risposte appena date, è l'argomento della digitalizzazione. L'argomento di digitalizzazione è importantissima che è a livello di comunicazione, a livello di dati, a livello di informazione, no? La scelta del dato giusto, insomma, è importante per ogni tipo di produzione. Ecco, dalla sua esperienza, a che punto siamo in Italia da parte delle aziende manifatturiere? L'industria 4.0, con tutti gli aiuti, ha fatto sicuramente fare un salto significativo, ma c'è ancora strada da percorrere. Ritengo sinceramente di sì. Io è anni che sono coinvolto in tutto questo contesto, quindi ho lavorato sul piano nazionale, lavoro nel nostro Competence Center, MEI, del Politecnico, che unisce poi anche altre realtà, altre università. Quindi penso di avere un piccolo osservatorio privilegiato su questo contesto. Certamente non possiamo pagroganare l'oggi al 2016, quando fu emanato il famoso, famoso per gli addetti a lavori, piano Industria 4.0. Tante cose sono state fatte. Se però guardiamo nei grandi numeri, ritengo, riteniamo, non è un'opinione solo mia, ma di diversi colleghi con cui lavoro, che ci sia ancora molto da fare. Ci sono ancora tante aziende che ad esempio ci approcciano come centro di competenze e poi come dipartimenti dell'università per capire alcune di queste tecnologie, cosa farne, come farne. Personalmente ritengo che c'è ancora bisogno di far crescere molto la consapevolezza, come si dice all'inglese, l'awareness, che è una delle missioni dei Competence Center. Adesso non ho statistiche da dire, perlomeno che non posso ritenere aggiornate, da dire quanto sia cresciuta. Ripengo che ci sia ancora un parecchia strada da fare. Quando cinque anni fa abbiamo fatto le statistiche per poi promuovere anche, partecipare al bando per la creazione dei Competence Center, avevamo stimato meno del 2% delle imprese manifatturiere come campioni digitali, cioè quelli particolarmente avanzati. Una grossa pancia del sistema paese, qualcosa tra il 70 e l'80%, sostanzialmente ignorante alla trasformazione digitale. Questi numeri sono certamente cambiati oggi, la pancia si è ridotta, ma penso che almeno la metà delle imprese buone con cui abbiamo a che fare hanno dei livelli di conoscenza della digitalizzazione. Noi ne parliamo di maturità, di digitalizzazione ancora ridotti. Ritengo che ci sia ancora parecchia strada da fare. Perché in realtà, non solo in Italia, tutto il mondo sta vivendo, vive questa trasformazione digitale, come si dice. Essendo poi noi un paese composto per il 96,4% da piccole e medie imprese, è ovvio che siamo più parcellizzati e quindi veramente anche riuscire a divulgare il verbo della digitalizzazione prende un po' di risorse in più rispetto ad altri. Questo mi introduce anche alla domanda successiva. Perché ci possa essere all'interno dell'azienda anche una trasformazione digitale efficiente, efficace, adeguata alle risposte che e alle esigenze di un'azienda occorre anche del personale qualificato. Cosa sta facendo l'università in merito, visto anche il suo impegno su questo fronte, proprio come docente e professore ordinario? Adesso, onestamente, penso che l'università stia facendo tanto. Io lavoro in un Politecnico di Milano, quindi la tecnica, come dire, fa parte di noi. per me e anni che abbiamo percorsi Industria 4.0, come volete, sostanzialmente sono presenti in tutti i corsi di laurea e almeno di ingegneria. Quindi il Politecnico di Milano sta ampiamente contribuendo. Va detto che non possiamo che aspettare che tutto sia risolto a livello delle università. L'Italia vive dei grossi mismatch tra domanda e offerta di competenza. punto primo è un'informazione che magari in tanti non abbiamo ma meno del 10% degli italiani laureato e siamo tra gli ultimi in Europa. Quindi non possiamo aspettarci enormi trasformazioni su questo fronte. Non possiamo aspettarci che tutto arrivi solo dall'università. Un altro grosso mismatch è la grammatica, cosa che so che le aziende conoscono benissimo, mancanza di competenze tecniche e di quel mismatch gigantesco tra formazione dei ragazzi più giovani che per l'altro sono pochi e formazione di competenze tecniche specifiche. Si stima che poi cambiano a seconda degli osservatori però ci manchino qualcosa come 300-400 mila persone, figure professionali sostanzialmente di stampo tecnico dove questo tecnico comprende anche un operatore un operatore che ovviamente oggi deve essere anche in grado di perlomeno di non essere spaventato e dell'utilizzo di alcune tecnologie. Ecco, qui l'università sta accendendo la sua parte almeno noi personalmente noi certamente la stiamo facendo abbiamo creato anche un competence center abbiamo tantissimi progetti attivi però dato il contesto del sistema paese non può venire solo dall'università e ci sono forse parti del paese che ancora non stanno adeguatamente rispondendo penso in particolar modo tutta quella che è appunto la formazione tecnica pre-universitaria no? Di come ancora ci sia una grande differenza anche nelle famiglie nel come indirizzare i propri figli ecco queste sono cose certamente più grandi almeno di me che si possono risolvere soltanto lavorando insieme un po' tutti alla volta in questo l'ateneo a cui appartengo io ma anche perlomeno la maggior parte degli atenei con cui io personalmente ho a che fare si ritrovano ampiamente nel fatto che devono anche perché sono di ingegneria onestamente io lavoro con ingegneri ecco quindi a tutti è noto che c'è bisogno di formare competenze adeguate per fare cultura sì ci possono essere anche tanti altri strumenti come alcuni eventi come quello che appunto organizziamo per il 17 di maggio che sono un altro modo per poter dare e fare cultura e informazione sugli argomenti di grande attualità ecco lei sarà uno dei relatori ci può solo anticipare magari qualche titolo della sua degli argomenti che affronterà sì chiaramente mi muovo in questo contesto quindi sono vado abbastanza nozze parlando di digitalizzazione ma anche di sostenibilità un altro dei temi che so che verrà coperto in particolar modo il 17 io vorrei portare una mia personale riflessione che ho costruito negli anni su come sia importante per le imprese industriali per non perdere il treno essere efficienti ed efficaci nella propria capacità di innovare per farlo bisogna essere attenti al mercato certamente bisogna essere rapidi nel prendere scelte bisogna evitare di fare sprechi e di perdere tempo dovrebbe sorgere la domanda come farlo la risposta seconda positiva è che gli strumenti ci sono ci sono varie tipologie di strumenti organizzativi metodologici anche digitali certo anche qui spesso mio personale punto di vista spesso nelle organizzazioni industriali manca questa consapevolezza manca la consapevolezza che il processo di innovazione l'innovazione non è una cosa che capita a caso è un processo deve essere gestito non può essere lasciato a se stesso sperando che qualcuno inventi qualcosa di nuovo e per gestirlo bisogna metterci attenzione risorse tempo metodi strumenti ripeto ci sono la cosa positiva è che ci sono bisogna almeno esserne consapevoli questo è penso il punto principale che porterò in discussione il 17 grazie mille ingegner Terzi per la chiarezza delle risposte e allora l'aspettiamo al convegno del 17 di maggio con la sua relazione e diamo appuntamento a tutti i nostri spettatori che vedranno questa intervista di iscriversi al 17 di maggio per questo importante evento che è di avvicinamento anche come avevo detto all'inizio di avvicinamento alla fiera lamiera che ci sarà nel 2025 ed è organizzato da Tecnologie Meccaniche Tecnolamiera e in collaborazione con UCIMU e Fondazione UCIMU allora arrivederci e grazie ancora ingegner Terzi